Questa 53esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna mostra chiaramente come la cittadina a ridosso del furlo, una delle mete naturalistiche più gettonate di tutta la provincia, voglia sempre più legarsi e connotarsi nel panorama gastronomico e turistico nazionale ed internazionale come una delle capitali di questo diamante della terra. La creazione e l'apertura con il taglio del nastro nella prima giornata della manifestazione di questo spazio interattivo multisensoriale proprio nella piazza Mattei, palcoscenico da sempre della manifestazione, crea una unicità che solo ad Acqualagna si trova e bisogna venire ad Acqualagna per compiere questo viaggio nel mondo affascinante del tartufo. Il museo Truffle Experience mostra appunto tutti gli aspetti legati alla trifola, dalla giornata tipo del cavatore alle caratteristiche organolettiche dei vari tipi di tubero. Sì, partiamo subito appunto dal museo del tartufo che è la grande novità della manifestazione di quest'anno e sarà uno spazio permanente, aperto al pubblico durante tutto l'anno, dove noi raccontiamo cos'è il tartufo per Acqualagna, qual è l'identità legata al tartufo, le nostre tradizioni, cosa c'è, insomma tutta la filiera, insomma prima del piatto o prima di avere il tartufo sopra il piatto c'è chi la mattina si alza con il cane con la ruscella e lo va a trovare. Quindi vi raccontiamo questo, è uno spazio molto divertente anche per i più piccoli e quindi sarà aperto tutto l'anno. Ma le esperienze sensoriali passano anche attraverso uno dei punti di forza da sempre della manifestazione, gli chef blasonati che sul palco cucina del salotto del gusto danno vita a vere esperienze gustative creando piatti unici a base di tartufo per gli show cooking e i loro dedicati. Quochi del territorio star dei canali tematici o di talent show o chef pluristellati che ogni anno attirano migliaia e migliaia di visitatori come quest'anno. è stato per uno dei maestri indiscussi della cucina italiana dagli anni 80 in poi che vanta al suo attivo in tutta la sua carriera l'aver conseguito ben 5 stelle Michelin e a cui è stata consegnata l'onorificenza della manifestazione, la ruscella d'oro a Igles Corelli. Beh, devo dire che la cosa mi ha fatto estremamente piacere, la porterò nel cuore, la porterò in giro perché il prodotto vale, è un grande prodotto, quindi il tartufo per Corelli in futuro sarà a Colagna. L'albo delle personalità che l'hanno ricevuta fa impallidire qualsiasi chef caricandolo di una bella responsabilità ed uno svetta sicuramente fra tutti il maestro per eccellenza della cucina italiana, Gualtiero Marchesi. Quest'anno vino ufficiale anche della manifestazione è il bianchello del Metauro enfatizzando ancora di più la coalizione dei nove produttori che hanno dato vita all'esperienza del bianchello d'autore egregiamente rappresentata nel cornel dell'Ais Montefeltro che presenta ai visitatori tutte le etichette di ogni singolo produttore. Grazie. Grazie.